Sale ancora la pressione sull'ospedale di Biella, gli operatori sanitari nuovamente in trincea. A ieri infatti i pazienti ricoverati con Covid-19 erano ben 126, di cui 3 in terapia intensiva, 29 in semi-intensiva, 94 in media-bassa intensità, di cui 1 in pediatria. Il 72% dei ricoverati risulta ancora non vaccinato. L'unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato oltre 17.000 nuovi casi di persone risultate positive, pari al 17,3% dei 99.388 tamponi eseguiti in una sola giornata. I decessi in Piemonte diventano 12.207, a Biella altri due nuovi decessi nelle ultime ore. Il totale dei casi positivi nel nostro territorio diventa di 22.675. Intanto anche questa modalità di tradurre i dati quotidianamente è stata contestata. Creerebbe troppa apprezzione. Il Ministero della Salute starebbe valutando una diffusione settimanale. Intanto il Piemonte rischia la zona arancione a partire da lunedì, ma anche qui alcune incognite. Perché parrebbe cambiata la modalità di conteggio dei pazienti ricoverati, non più con Covid, ma esclusivamente per Covid. Verrebbero quindi esclusi tutti coloro che vengono ricoverati e solo in un secondo momento viene riscontrata la presenza del virus. In questo caso i numeri diminuirebbero sì, ma la situazione rimane comunque di emergenza.